Energia ripresinata, prevede licencio a un'intervistoria. Ecco. Statazione a. Statazione ineligenza. Che hai provato? Non ero. Con il formato. troppo vicino non ne vedo ne sento altri guardiamoci intorno usiamo le armi di atlas armi pronte arrivano si è riaccesa porta aperta salto di qualità grazie ho poche munizioni sono completamente a secco si ogni corpo morto questa stampante funziona devo fare il rifornimento si sarà una bomba da sono quasi a secco sembra creptata non 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 Merda! Pazzesco! Canile? Ritengono i cani di sorveglianza. Non lo so. Bisogna aumentare il livello di sicurezza. Sparesci! Ehi, sentite anche voi! Grazie a tutti. Non è necessario. Attiviamo quattro punti. Devo aver lasciato il mio tesserino in ufficio. Non lo uso mai. Tutti dovrebbero essere giusto. Attivazione bomba TLA. Sarà l'ultima spiaggia. La schiena. Si mettono anche a stricciare. Il prossimo. Attivazione e l'alto totale. Munizioni non sono mai troppe. Finalmente. Contatto! È accesa? È accesa? Ricarico! Copritemi! Forza aperta. Energia ripristinata. Prende il blocco principale. C'è di nuovo corrente. Prende il blocco principale. Ok. Possiamo tirare il fiato. Ottimo. Ottimo. Cinque nelle vicinanze. Sei morto. L'ho acquistato. È arrivato un bel po'. Troppo. Ci sono un bel po' di acquistata. Mai. Viperai. Fai. Sip. No. Non. Si. Chi. È arrivato un bel po' di spazioэ. Alla. ng puoi passarmi la dirigenza ma c'è Grazie a tutti. Devo ricaricare. Devo ricaricare. Devo ricaricare. Devo ricaricare. Ricarico, copritemi! Devo ricaricare. Devo ricaricare. Devo ricaricare. Devo ricaricare. Mi piace. Devo ricaricare. 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 ... troviamo altri tesserini bene bene ricarico ben fatto avanti così tornare a fare ok Ah, sono quasi a secco. Occhio, ne arrivano un sacco! Inquisizione ostile! Levati! Devo fare il rifornimento. Non è consentito, accede la scelta a salvare il video. Quello cazzo, l'ho rotta! Ce l'ho! Dobbiamo armarci! Ci hanno fregato! Tutti qua! Mi cazzo raddoppiato! Mi cazzo raddoppiato! Sì! Oh! Sì! Lo che! è stato un piacere mi vedo 5 questo merito mio sono in fatto oddio brucia ho poche munizioni adesso ho più potere di prima sono quasi a secco voi state ascoltando questo messaggio il test è riuscito avete 24 ore per raggiungere il luogo d'incontro e avviare la partita non fare il rifornimento ho poche munizioni devo fare il rifornimento è stato un piacere